Buongiorno e benvenuti nel piccolo giardino di Monfestino. Oggi vi parleremo di un materiale molto prezioso per il giardino, che si usa dalla nota dei tempi, ma con un problema, un problema importante. Lo affronteremo insieme e ne capiremo di più. Si tratta della torba. Guardate la consistenza della torba. La torba è un materiale organico, composto da resti vegetali, solo parzialmente decomposti, che si forma in luoghi umidi, nelle torbiere per esempio. È molto ricca di sostanza organica e di nutrimenti, per questo è adatta come ammendante per ogni tipo di terreno. Tra i suoi vantaggi c'è proprio il fatto che favorisce la radicazione delle piante, il drenaggio, l'ossigenazione del terreno. Per le piante acidofile poi è assolutamente il substrato migliore. Le torbe che si trovano attualmente in commercio sono sostanzialmente due, la torba bionda e la torba scura, anche se ne esistono altri due tipi, la torba giovane e la torba nera. Tra di loro si differenziano per il grado di decomposizione dei resti vegetali. Si va dal pH 3 della torba giovane fino al pH 6, 6,5 della torba nera. È comunque un ammendante assolutamente acido, a pH acido. Oltre a tutti questi vantaggi, questa importante, preziosa risorsa per il terreno, per le piante, per i fiori, ha una controindicazione importante. L'asportazione di torba dalle zone umide, acquitrinose, dalle torbiere, comporta un impatto ambientale molto importante, molto grave. Questa è una risorsa non rinnovabile, quindi l'estrazione e l'uso dovrebbero essere limitate. In giardino naturalmente si può usare, bisogna però essere consapevoli di questo impatto ambientale che ha l'estrazione della torba. Quindi, come detto in passato, se scegliete torba per il vostro giardino, cercatela certificata. Torbe certificate ne esistono e certificano il fatto che siano estratte in modo sostenibile per il pianeta. Altrimenti ci sono diverse alternative, ormai da decenni nel mondo del giardinaggio. Ci sono terricci privi di torba che hanno un'efficacia quasi pari alla torba. Quindi, a voi la scelta, torba oppure terricci senza torba. Ricordate sempre però che qualunque giorno sia, rendetelo bello. Questa senza torba che funziona, perchè stancia spettabile throughout la torba. Con l'organizzazione, quindi far9 di lungo, quando gli rimbio rubri. Sudete finire da condottorare. Sono serasi naturalmente, perché? Sono serasi naturalmente, così, che ci sono. Grazie a tutti.